TgLive, telegiornale regionale della Sardegna. Benvenuti in nuova edizione del notiziario di Teleregione Live. L'avete sentito anche nella nostra anteprima. In primo piano c'è la politica perché per domani mattina la neopresidente della regione, Alessandra Todde, ha convocato la prima riunione di giunta. La Todde ha anche espresso una ferma condanna per l'attentato ai danni del sindaco di Nule, attentato del quale vi parleremo nel corso del nostro notiziario. Ma ritornando ai temi della politica, alla presentazione della riunione di domani, vediamo anche quali sono le priorità del nuovo esecutivo regionale. Lo vediamo nel servizio di Eleonora Bullegas. Election Day, energia, continuità territoriale, sanità ma anche riforma di legge per l'organizzazione dell'amministrazione regionale. Sono questi i temi prioritari dell'agenda politica della neopresidente della regione, Alessandra Todde, prima donna nella storia dell'autonomia della Sardegna, a ricoprire il prestigioso ruolo che per domani mattina Cagliari ha convocato la sua prima riunione della giunta. La governatrice ha preannunciato ieri, a margine della prima seduta del Consiglio regionale che ha dato il via alla diciassettesima legislatura, che proporrà di deliberare l'accorpamento delle elezioni comunali, previste a breve anche a Cagliari, a Sassari e ad Alghero, con quelle europee già fissate per l'8 e 9 giugno prossimi. Abbiamo un tema da discutere immediatamente, che è l'Election Day. Vi posso anticipare che l'intenzione è quella di accorpare europee e amministrative, non soltanto per questioni amministrative, ovviamente quindi per far risparmiare le casse dello Stato, ma anche perché la finestra temporale non avrebbe giustificato una scelta diversa, quindi le accorperemo in una giornata unica. La regione Sardegna infatti può decidere in modo autonomo la data delle amministrative. Intanto la Presidente, sempre ieri, ha evidenziato che lavorerà fin da ora anche alla moratoria sugli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che ritiene fondamentale per arginare l'assalto all'isola. Ed è necessario dare un segnale. Noi abbiamo già preparato una bozza da presentare e vorrei che fosse affrontata immediatamente. Noi sappiamo che probabilmente questa moratoria sarà impugnata, e probabilmente anche respinta, ma deve essere un segnale forte che ci dà il tempo di chiudere con la mappa delle aree idone e dare delle regole. La governatrice Sarda ha sottolineato che con l'assessora regionale ai trasporti Barbara Manca affronterà in tempi stretti anche la questione del bando per la continuità territoriale. I temi che sono legati al bando in scadenza rispetto alla continuità territoriale, che mi ha visto ovviamente anche incontrare gli uffici nelle scorse settimane, che quindi discuterò al più presto con l'assessore ai trasporti. L'impegno di Todde sarà inoltre di cambiare pure la legge numero 1 del 1977 sull'organizzazione della regione. E tra le priorità certamente del nuovo esecutivo c'è anche la situazione della sanità in Sardegna. Una situazione veramente difficile non sarà una sfida semplice per il nuovo assessore regionale Bartolazzi. Non sarà un compito facile quello che attende il nuovo assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi, oncologo romano ex sottosegretario del primo governo Conte. La Sardegna è un paziente affetto da una patologia che sembra essere diventata cronica, con peggioramenti palpabili di anno in anno fino alla situazione disastrosa di oggi. Le lunghissime liste d'attesa hanno spinto i Sardi a rivolgersi ad altre strutture sanitarie fuori regione. Se la sanità pagata con le tasse non è in grado di dare i livelli di assistenza necessari, si deve fare ricorso alle strutture private, cliniche o semplici visite specialistiche pagate di tasca dai Sardi. E mentre aumenta il numero di cittadini costretti a mettere mano al portafoglio per curarsi, diminuiscono quelli che realmente possono permettersi di farlo. L'isola è al vertice della classifica delle regioni per rinuncia alle cure. Gli anziani in prima linea, ma anche tanti, troppi cittadini con una disponibilità economica limitata. Ma se al di fuori degli ospedali la situazione è drammatica, lo è anche tra le corsie, gli ospedali sono in affanno, i medici vanno via, i bandi non raccolgono disponibilità. I dettori a gettone sono stati una pezza alla quale è stato necessario ricorrere per non chiudere reparti o pronto soccorso. E le proteste non mancano, con presidi e manifestazioni che hanno interessato la gran parte delle strutture ospedaliere della Sardegna. Una sanità che arranca. A Bartolazzi, medico, il compito di iniziare l'inversione di marcia necessaria per garantire ad una popolazione sempre più anziana le cure necessarie. Al politico, insieme ai colleghi di giunta e alla presidente, la revisione delle ultime delibere di nomina dell'ex esecutivo Solina, sbloccate dalla Todde, è stato il primo atto ufficiale del nuovo governo a Traino Campolargo. E poi ci sono gli artigiani, artigiani che augurano buon lavoro a presidente, giunta e consiglio, ma ricordano anche il patto con i politici che c'è stato durante la campagna elettorale. Noi abbiamo sentito Fabio Mereu, presidente di Confartigianato Sardegna. Eccolo. Auguri da Confartigianato Imprese, al nuovo consiglio regionale, alla presidente, alla nuova giunta, affinché possano portare avanti anche i temi del manifesto per gli artigiani che avevamo visto prima delle elezioni, che è stato siglato sia dalla presidente che da tanti consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, e che tratta tematiche necessarie per il sviluppo del comporto artigiano, quali trasporti, lavoro, l'energia, e la legge 949, tutte le agevolazioni che riguardano le imprese e tanti altri argomenti. Confartigianato è propositiva nel nuovo percorso con la giunta, si fa propositiva, l'accompagnerà affinché possano analizzare nel loro lavoro anche le proposte delle aziende. Il piano urbanistico di Olbia sarà uno dei primi file sul personal computer del nuovo assessore regionale all'urbanistica, Francesco Spanedda. Il nuovo PUC del centro gallurese è uno dei documenti più urgenti su cui lavorare dopo il suo insediamento, con particolare attenzione alla questione degli alberghi nelle zone F. Il servizio è di Gian Domenico Mele. Il piano urbanistico di Olbia sarà uno dei primi file sul PC del nuovo assessore regionale all'urbanistica, Francesco Spanedda. L'architetto e docente dell'Università di Sassari conosce bene la materia e sa che il nuovo PUC del centro gallurese è uno dei documenti più urgenti su cui lavorare dopo il suo insediamento. Le carte sono sulle scrivanie dei dirigenti dell'assessorato da tempo. Il PUC è stato approvato nel luglio del 2020 in adeguamento al piano paesaggistico regionale e al piano di assetto idrogeologico unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica e allo studio di incidenza ambientale. Poi era partita la lunga analisi delle oltre 750 osservazioni. Una volta prodato in regione sul PUC con la precedente giunta, ufficialmente dello stesso colore politico del comune di Olbia, era iniziata una lunga mediazione, soprattutto sugli hotel nelle zone turistiche F, il nodo principale da sciogliere. L'amministrazione inizi non ha mai voluto cedere su uno dei pilastri della pianificazione del territorio. La regione ha attenzionato in particolare gli alberghi di Capo Ceraso, Pittulongus a testa e Porto Rotondo. I tecnici cagliaritani, con diverse osservazioni, avevano posto dei dubbi sul posizionamento delle nuove strutture ricettive, in quanto edifici di nuova costruzione. Il sindaco inizi ha spesso ribadito che è sempre esistita un'interlocuzione continua tra i tecnici comunali e quelli regionali. Ora aspetterà la struttura dell'assessorato di Spaneda arrivare a una sintesi finale, per dare il via libera al documento attesa a Olbia da decenni. Concentrandosi proprio sulle zone F di sviluppo turistico, in relazione anche ad alcune prescrizioni di tipo ambientale, dal momento che le zone sono particolarmente sensibili, vedi soprattutto Capo Ceraso e sa testa. In questi mesi è proseguita la fase di copianificazione con gli uffici della regione, ma ora si deve stringere, perché Olbia continua a poter operare la propria programmazione urbanistica con le varianti al piano di fabbricazione, ma serve lo strumento che ne dirige il futuro per i prossimi vent'anni. Ecco, ora veniamo alla notizia che vi ho riferito anche in apertura relativa all'atto intimidatorio nei confronti di amministratori locali in Sardegna. Nella notte è stata data le fiamme l'auto del sindaco di Nule, Giuseppe Mellino. Intorno alla mezzanotte i gnoti hanno cosparso di liquido infiammabile e l'audio A4 del primo cittadino era parcheggiata in via Cagliari, hanno dato fuoco. Ferma condanna per l'attentato e massima solidarietà al sindaco sono state espresse dal neoeletto presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Piero Comandini. La governatrice Todde ha definito il gesto un atto vile. Il presidente dell'Anci Sardegna, Emiliano Dejana, non nasconde la sua amarezza e dice non rassegniamoci alla violenza. E a proposito di violenza, bloccato in auto, in centro storico rapinato in piena notte di 50 mila euro tra contanti e oggetti di valore. Vittima è un imprenditore di Olbia, costretto a fermarsi da due persone stando al suo racconto un uomo e una donna che a volto coperto e armati di coltello lo hanno fatto scendere dalla macchina riuscendo ad impossessarsi non solo dei soldi ma anche del prezioso orologio da 30 mila euro. Per coprirsi la fuga i due si sono fatti consegnare le chiavi dell'auto e sono scappati su un motorino facendo così perdere le loro tracce. Arresti e indagini e andiamo a Sassari per turbativa d'asta su appalto sanitario da 2 milioni di euro coinvolti dirigenti ed imprenditori. Due persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Sassari e altre tre iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di turbativa d'asta per un appalto da 2 milioni di euro dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari. In esecuzione di un provvedimento del tribunale sono finiti agli arresti domiciliari l'ex dirigente medico della clinica oculistica Mario Cristoforo Soggiu ora in pensione e l'imprenditore Cagliaritano Paolo Tronci amministratore della società Abimed. Quest'ultimo insieme con il titolare di un'altra società si sono aggiudicati quasi tutti i lotti di gara di un appalto per la fornitura di apparecchiature biomedicali con importo a base d'asta pari a oltre 2 milioni di euro bandita nel 2020 dalla U di Sassari e aggiudicata l'anno successivo. L'inchiesta è partita nel 2021 in seguito al ricorso di una società che partecipò alla gara perdendola. Secondo quanto emerso dalle indagini delle fiamme gialle, gli indagati attraverso collusioni e altri mezzi fraudolenti avrebbero fatto trapelare gli atti di gara compiendo il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e favorendo così la giudicazione dell'appalto. Il dirigente medico e un ingegnere clinico che ha partecipato alla procedura di gara sono stati sospesi dall'esercizio professionale. Ai due imprenditori indagati è stato posto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.